Per quanto riguarda le strisce blu, Caltanissetta protagonista ha preparato una proposta ad avanzare all'amministrazione comunale. Quale? Sì, è una proposta abbastanza semplice e dettagliata. Ci auguriamo proprio per questo che l'amministrazione la possa fare propria prima possibile. Noi parliamo ancora di strisce blu e, estrapolando tra l'altro la parte del programma di Caltanissetta protagonista, chiediamo al sindaco e all'amministrazione di rivedere un po' questo piano. Le strisce blu noi le intendiamo e vorremmo che l'amministrazione le intendesse solo e esclusivamente nei grandi parcheggi, cioè quello di Medaglia d'Oro, il parcheggio di Piazza Marconi e il parcheggio del Mercato Grazia. In altre due zone, per la verità, che sarebbero di fronte all'ufficio della posta centrale e al Tribunale. Nell'altra parte della città, dove esistono in questo momento strisce blu, le strisce blu le potremmo e vorremmo che fossero invece utilizzate con disco orario. Ricordo che il codice della strada parla di disco orario con un'ora e in realtà con pannelli integrativi il tutto può essere anche cambiato, quindi con 30 minuti o 15 minuti e questo sarà il comandante della Polizia Municipale a deciderlo. Perché questa proposta? Ovviamente nelle altre parti della città invece strisce bianche gratuitamente. Perché questa proposta? Perché ci rendiamo conto che, specialmente in questo momento storico, a Caltanissetta le condizioni economiche non sono floride. Proprio per questa ragione ci sembra che in questo momento sia vessare il cittadino con tutte queste strisce, con questo pagamento. Ci rendiamo conto, chi meglio di me può dirlo, che le strisce blu servono per un'organizzazione generale del traffico e il fatto di mettere immediatamente mano al piano unico di mobilità non può essere altro che aiutare l'amministrazione in tutte le altre scelte che riguarderanno la circolazione. Penso anche alla mobilità urbana, quindi alla stessa area pedonale e alla zona traffico limitato. Penso che invieremo immediatamente questa proposta all'amministrazione e speriamo che questa volta una proposta di Caltanissetta protagonista possa essere fatta dall'amministrazione ed esitata prima possibile. Chiedete anche che il servizio venga gestito direttamente dal Comune? Sì, questa è una proposta che abbiamo valutato anche perché abbiamo controllato i bilanci, comunque gli introiti, chiamiamoli così, degli stalli con le strisce a pagamento. Non stiamo parlando di somme che sono così enormi da fare, chissà quali guadagni, anche perché ci siamo interrogati, chiedendo appunto, posti come se noi fossimo gli amministratori, chiedendo ma noi prestiamo un servizio, facciamo un servizio al cittadino o facciamo business? Allora immaginiamo che l'amministrazione, anche l'amministrazione del ruolo, risponda pensando che è un servizio e non è altro. e proprio per questa ragione potremmo avere un bando a breve che coinvolga delle cooperative, non per forza degli imprenditori e questo tutto a vantaggio dei cittadini perché la prerogativa di una cooperativa è quella di chiaramente avere il sostentamento dei dipendenti ma non di fare business, non di avere un target che sia appunto un guadagno.